salve ragazzi bentornati su una pizza channel che vi parla sono sempre io il vostro mago di paese e vediamo di fare un ultimo video per la fine dell'anno anche perché un po che non è pubblico giusto per farvi i migliori auguri di buon anno nuovo anche se non si può pronosticare che sia così buono visto l'andato della situazione ora siamo qui nel famoso pezzo della scia raddoppia dove abbiamo deciso di aumentare la densità dell'impianto ora ho già effettuato tutti i buchi come possiamo vedere e l'ho già fatto da un po e a questo punto basterebbe tirare via le piante dal vivaio e venirle a piantare ma il problema qual è il problema è che qui siamo veramente asciutti ogni anno è sempre più secco e anche quest'anno siamo completamente in una situazione drammatica ora per far sì che supponendo che le condizioni venire saranno le peggiori possibili quindi che non pioverà questo inverno non pioverà la primavera e sarà l'ennesima andata secca con i pozzi asciutti e tutto ciò che ne consegue andiamo a fare un'operazione di emergenza quindi come possiamo vedere ho già fatto i buchi che ho lasciato più vuoto possibile ora sto caricando l'acqua e riempiamo tutti i buchi d'acqua andando a creare l'umidità di fondo quindi poi una volta fatto questo potremmo stirpare le piante nel vivaio venirle a piantare e successivamente dargli di nuovo l'acqua e prevedendo la peggiore condizione possibile in termini di sezietà questa procedura dovrebbe se non garantirci almeno darci qualche possibilità che le piante le possano spangare qualunque sia la peggior situazione possibile ora questa è una cosa che bisognava già aver fatto ma abbiamo visto negli altri video che ho perso la pompa ho perso quasi tutti i pozzi ho dovuto perdere tempo per dragare il laghetto che avevo ora gli ho dato una pulita questa cosa mi richiede parecchio tempo perché diciamo che allora se non troviamo arrivati a 15 15 quindi 80 diciamo che ci ho fatto dei buchi da 30 profondi un metro rimasto più di terra dentro ma ci rimane circa un 40 litri per buco tra quello che ci sta nel buco quella che si allarga quindi questa cosa diventa veramente impegnativa tra su per sotto abbiamo circa 350 buchi quindi mi serviranno un paio di giorni anche perché l'acqua devo andare a prendere a due chilometri di distanza a 4 chilometri di distanza quindi sono 8 chilometri da andare a venire la metto in una vecchia botte che oramai è in disuso ancora la pompa dentro ma è marcita tutto erano ancora una vecchia botte di ferro capacità 800 litri la tiro su dal laghetto con la pompa la porto e come possiamo vedere dalle immagini che ho registrato andiamo a riempire i buchi fino al riempimento totale qui sono quelli che avevo riempito nel viaggio precedente ora l'acqua è già scesa quasi tutta questa si è già allargata tutta sul fondo l'ideale sarebbe riempire anche un paio di volte ma bisogna avere il tempo per fare tutto questo qui c'è ancora un po d'acqua dentro comunque questo è quanto quindi niente che qui procediamo con questa cosa dopodiché si riemperemo e andremo a piantare le piante dopo aver piantato le piante gli andremo di nuovo l'acqua e nella prima porzione dove abbiamo alcune che le innesteremo subito questa primavera post trapianto andremo di nuovo a regalo una quindicina di giorni prima di effettuare l'innesto che sarà probabilmente un po più ritardato rispetto al resto perché bisogna dare le piante il tempo di partire e vedere quale partono e quale no volevo farvi vedere un'altra cosa qui in questo pezzo allora qui alla cima abbiamo delle piante che non sono eccezionali al di là del fatto che sono state spaccate tutte dai cinghiali e dai caprioli prima che riuscisse a cintare i primi anni visto che non sapevo niente ancora meno avevo preso delle piante di calibro più piccolo la selezione più piccola perché non sapevo quando mai sarei riuscito a preparare il pezzo venire a piantare è stata un'idea pessima perché le piante più piccole sono sempre più piccole sempre più brutte e in ogni pezzo cosa interessante in quasi ogni pezzo ho lasciato delle piante di colurno allo stato brado per far sì che il giorno che mi servissero solo 4 5 piante all'anno da fare dei rimpiazzi per evitare di dover ordinare magari le piante dall'estero si possono fare tranquillamente anche da seme ora una pianta di colurno come vediamo questa qui che si può vedere per entrare produzione diciamo che entra in produzione generalmente tra i 10 e 15 anni questa dovrebbe averne 8 9 e non me l'era ancora data eccezionalmente adesso la telecamera allora ok sono lì l'anno scorso sembra che ha fatto le nocciole ora non ci sono infiorescenze maschili non c'erano l'anno scorso non ci sono quest'anno probabilmente neanche il prossimo ma quanto pare ha fatto già delle fiorescenze femminili che si saranno poi impollinate con i nocciolini selvatici o con con le altre nocciole quindi adesso abbiamo già le nostre due tre nocciole da andare a raccogliere niente di che sono le prime nocciole di colurno che possono raccogliere volevo solo condividere questa cosa quindi niente continuiamo a riempire i buchi e poi quando saremo pronti a estirpare in vivaio vedremo poi il nuovo video per ora tutto vi auguro buono buon anno buone feste e ci vediamo prossimamente sempre qui su una pixel channel ciao a tutti